Ci sono certe cose che mi lasciano un po'... No, ma comunque vai tranquillo, non sono un critico, non sono... Siccome mi diciamo che sei un gran tifoso del Parma, volevo sapere come mai tu, Jacopo Nardi, che gestisce questa azienda a Vitivinicolo, eccetera, eccetera, come mai tifo Parma, tanto per cominciare? Perché tifo Parma? Sono quelle disgrazie che capitano da bimbi. Nel senso che, vabbè, innamorato dei vecchi campioni, una volta Zola, Spriglia e compagnia bella, mi sono ritrovato da bimbo all'appassionarmi a questa squadra. Ho dei parenti...